Si chiamava Yasir Hussain e purtroppo pensate che è morto a 10 anni di età. Era un bambino solare, dolce, gradevole, piacevole da guardare, da osservare, da conoscere, eppure è morto mentre stava giocando a calcio a scuola. Il bambino in questione infatti pensate che ha sbattuto gravemente la testa per colpa delle scarpe troppo grandi a livello di dimensioni ed ecco che proprio sbattendo la testa è andato a perdere miseramente la vita. Era un bambino, era giovanissimo, per a causare incidenti sono state queste scarpe troppo grandi per lui ed ecco che pensava, si pensava che vive invece purtroppo è morto. Pensate che voleva diventare un giocatore dell'Aston Villa e purtroppo si è spento per sempre, a soli 10 anni di età. Questa storia è una storia incredibile e che ha veramente lasciato il segno a tutti quanti. Nessun scuso. Vi ringrazio per l'ascolto, il bio termina qua, iscrivetevi al canale, commentatevi, fatemi sapere cosa ne pensate, e a Sirusseino Usain, che tu possa riposare in pace. Amen. Grazie a tutti.